Particolarmente emozionante. Innanzitutto ricordiamo il grande Rino, in un momento speciale, a lui molto caro, un momento didattico di formazione per i giovani. Un'altra piccola considerazione è che il 28 novembre 1989 nacque la Fondazione Mediterranea, quindi siamo alle ceramiche antiche di Sejnen, una città del nord della Tunisia, che sono patrimoni e materiali che coincidono la festa del Rino, che coincidono i nostri 30 anni. Vi ringrazio per essere venuti e do la parola al sindaco Luigi De Magistris.